Musica Proseguono le attività di formazione e di informazione di qualità organizzate da Family Med, il centro medico a Casine di Ostra, provincia di Ancona, inaugurato appena un anno fa e già divenuto punto di riferimento per una clientela sempre più vasta. In questo caso è stato organizzato un convegno sulla sindrome genito-urinaria in menopausa, a cura del dottor Mario Massaccesi, medico chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia. La sindrome genito-urinaria in menopausa è una delle varie sintomatologie che possono essere legate alla carenza estrogenica. Ricordiamo che la menopausa è un momento fisiologico nella vita di una donna, che però negli ultimi 60 anni ci si è accorti che sta portando a dei problemi importanti. Questo per due fattori fondamentali. Uno, l'allungamento della vita media. Quindi la carenza estrogenica che segue alla menopausa, alla perdita della funzione ovarica, determina in 35 anni delle problematiche che prima non erano apprezzabili. Basti pensare all'osteoporosi, basta pensare all'aumento delle malattie cardiovascolari, basta pensare anche all'aumento delle incidenze di tumori che si verifica dopo i 50 anni, cosa che prima non accadeva. Oggi in particolare parleremo di quelli che sono i disturbi da carenza estrogenica legati all'apparato genito-urinario. In modo particolare facciamo riferimento all'atrofia vaginale, quindi alla secchezza vaginale, quindi a tutto ciò che comporta non avere più un'adeguata funzione e idratazione a livello dell'apparato genitale, in particolare della vulva e della vagina, ma anche delle ripercussioni che ha la carenza estrogenica alla vella dell'apparato urinario, quindi mi riferisco alla vescica con quelle forme di incontinenza urinaria lieve che si possono verificare e che possono essere trattate anche con terapie diciamo così nuove, non alternative ma nuove. Nell'occasione è stato presentato alle persone che hanno partecipato all'incontro il laser aderbium smooth fotona per i trattamenti uroginecologici, una valida alternativa di interventi più invasivi e dolorosi che permette di curare disturbi specifici. La sua azione è semplice ed efficace, tanto che si parla di tocco morbido della luce. In questi due anni ci sono state due grandi novità, l'entrata in clinica di una molecola che si chiama ospremifene, che poi si è assunta per bocca, che ha un'azione specifica sull'apparato genitale ma soprattutto più recentemente anche l'utilizzo di terapie che sfruttano il laser e in modo particolare oggi parleremo di come il laser può essere utilizzato a livello vaginale per ridurre la sintomatologia legata all'ipoestrogenismo soprattutto in quelle pazienti che non vogliono ma soprattutto non possono fare terapia ormonale. Noi utilizziamo un laser molto leggero, fra virgolette, un laser non ablativo quindi che non va ad alterare la struttura cellulare, quindi non va a scarificare la superficie vaginale quindi con una percentuale di complicanze che è vicina praticamente allo zero. È una terapia molto semplice da utilizzare e quello che è importante è il know-how, sono i vari protocolli, i vari programmi che vengono utilizzati e che vengono appositamente studiati e sviluppati per i vari tipi di problematiche vaginali, come dicevo la secchezza vaginale, l'incontinenza ma anche quel rilassamento vaginale che molte donne possono provare o dopo diversi parti o per condizioni particolari e quindi quello che gli inglesi chiamano la wide vagina e quindi questo comporta praticamente nessun tipo di rischio. La procedura consiste in un'applicazione di questa energia a livello vaginale con degli speculi adeguati, dei manipoli adeguati per circa 10-15 minuti al mese per 3-4 mesi, quindi 3-4 sedute e con una buona performance anche a lungo termine, infatti ci sono già studi a 12-14 mesi, quindi a più di un anno in cui il paziente poi non deve fare altro che vedere come va, perché la secchezza vaginale in modo particolare è un problema che è cronico, non è che questi trattamenti fanno guarire, non assicurano la guarigione, ma assicurano dei lassi di tempo liberi da fastidio più o meno lunghi che dipendono anche dal soggetto. Possono essere associate queste terapie anche a terapie farmacologiche, sia orali che locali, quindi oggi si cerca di taylorizzare, di ritagliare la terapia sul paziente, sul singolo paziente con la singola programmatica e quindi rendere più personalizzata possibile l'approccio terapeutico e quindi migliorare sicuramente la qualità della vita delle persone. Una delle caratteristiche principali di FamilyMed è l'approccio multidisciplinare della patologia e la presa in carico della persona. Questo accade anche in ambito ginecologico, come ad esempio ci ha spiegato la dottoressa Sofia Pagoni, fisioterapista. La vibra si occupa principalmente della neuromodulazione del controllo motorio, quindi sia nello sportivo agonistico, nel controllo ad esempio dopo un intervento, quindi in riabilitazione postchirurgica, prechirurgica, nella neurofisiologia, quindi nelle malattie che riguardano il sistema nervoso centrale, come ad esempio sclerosi multipla, morbo di Parkinson, dove c'è il controllo motorio. A volte invece anche viene impiegata e soprattutto nella riabilitazione del piavimento pelvico, perché serve a sensibilizzare i propri muscoli del piavimento pelvico e di conseguenza anche l'attivazione. Qui in fisioterapia si eseguono trattamenti riabilitativi con apparecchiature biomedicali tradizionali ed innovative ad onde meccano sonore Fisio Vibra Plus. Viene utilizzata soprattutto a livello periferico, quindi viene ricepito e inviato al sistema nervoso centrale. Di conseguenza viene emessa una contrazione oppure un rilassamento del sistema proprio motorio. Particolarmente interessante è l'ozonoterapia, con finalità antalgiche ed anti-infiammatorie. A parlarcene la dottoressa Nadia Rampoldi. L'ozono obiettivamente, essendo un grosso anti-infiammatorio antivirale, viene applicato su diversi campi medici, sia per ernie discali, sia per particolarità su ginecologia, su problemi di anche pelle, su diversi campi obiettivamente. Perché appunto essendo un grosso anti-infiammatorio logicamente viene utilizzato per queste patologie. L'ozono, diciamo così, è come fosse un cortisone che non è il cortisone con effetti collaterali perché essendo appunto estrapolato dall'ossigeno è naturale. Per cui l'organismo stesso ha questi benefici. Per cui hai questo, diciamo, miglioramento naturale obiettivamente. E qui c'è un vero e proprio pool che si occupa anche di ricerca. Esatto, esatto. Provvedere in tempi brevi a soddisfare le richieste in ambito sanitario è l'altro elemento che caratterizza FamilyMed. La struttura nasce infatti con l'intento di dare immediate qualificate risposte in ambito socio-sanitario. Il dottor Rolando Boggia, direttore sanitario del centro FamilyMed, continuano incessanti, diciamo, dall'inizio dell'attività, le ricerche, le innovazioni, le possibilità per tutto quello che riguarda la cura e il benessere. Come sta andando questa esperienza di FamilyMed e oggi l'attenzione è stata focalizzata su una sindrome, quella geniturinaria in menopausa e soprattutto sull'utilizzo di un nuovo strumento. Certo, noi abbiamo aperto da circa un anno, abbiamo aperto il gennaio scorso e in questo anno abbiamo cercato di, oltre di ampliare il servizio di diagnostica strumentale, quindi tramite ecografie, oltre al pressorio e con tutta la parte anche ambulatoriale, con le varie specialistiche, ci stiamo un po', ecco, stiamo provvedendo a effettuare anche delle prestazioni di tipo terapeutico, che sono, come diceva appunto giustamente lei, specialmente per quanto riguarda la sindrome geniturinaria, che è l'argomento appunto di cui abbiamo trattato oggi nella menopausa, c'è questa nuova metodica che è costituita appunto da laser, che sembra avere delle ottime prestazioni, soprattutto in termini di efficienza e di assenza di controindicazioni e soprattutto di facilità di esecuzione e priva proprio di effetti collaterali. Quindi abbiamo cominciato e sta dando dei buoni risultati. Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale ci sono molte specialistiche, la cardiologia, la gastroenterologia, la nefrologia, la dermatologia, c'è anche un'esistenza infermeristica per quanto riguarda per esempio il trattamento delle ulcere, delle ferite chirurgiche. C'è un ampio ventaglio di specialistiche che si cerca appunto di venire incontro all'esistenza dell'utenza, soprattutto in tempi rapidi. Quindi ecco c'è tutto l'aspetto anche della fisioterapia, anche per esempio il Vibra, che è lo stesso, è una metodica abbastanza nuova, che peraltro non c'è quasi su un ospedale o in pochi ospedali, serve veramente molto a migliorare tutte quelle sindrome mialgiche e artralgiche che trovano una soluzione appunto in questo tipo di terapia. E poi abbiamo l'isozonoterapia, l'ossigenoterapia, quindi anche degli approcci diversi. Certamente, certamente. Come dicevo, noi abbiamo un ventaglio sia come prestazioni diagnostiche, ma come anche prestazioni proprio terapeutiche, come approccio terapeutico a queste patologie che magari ecco nell'ospedale sono anche poco considerate, sono poco prese in considerazione. Noi speriamo ecco di continuare in questa direzione e di ampliare ancora di più queste prestazioni che ci stanno dando diciamo dei buoni risultati. Accolti in un ambiente cordiale e rilassante, i pazienti vengono assistiti dalla fase iniziale di orientamento fino alla parte conclusiva della prestazione. Lo staff promuove percorsi di welfare sanitario aziendale, divulga le attività del centro, organizza incontri e seminari informativi. Ne abbiamo parlato con Orietta Olivetti, direttore responsabile nonché ideatrice di FamilyMed. Il welfare sanitario aziendale è una cosa di cui si parla moltissimo. Nella pratica non si sa esattamente come può essere erogato. FamilyMed ovviamente fa questo, ha inviato una lettera a tutte le aziende per far capire l'importanza che rappresenta il benessere delle proprie risorse umane e quindi dei propri dipendenti. Quindi che cosa fa FamilyMed? FamilyMed offre un percorso di benessere e di salute alle aziende che lo possono acquistare. È totalmente deducibile dal reddito d'impresa, quindi è un grande valore sia per l'azienda e soprattutto per i dipendenti. Possiamo essere anche, siamo anche presenti con un welfare sociale che vuol dire durante l'estate abbiamo dei servizi da offrire alle famiglie per l'intrattenimento dei figli durante le vacanze da scuola. E voi proseguite sul percorso non solo della cura e della vicinanza delle persone che hanno qualche tipo di patologia ma anche sulla prevenzione. Prevenire è un passaggio fondamentale. Il benessere è inteso naturalmente a 360 gradi. Questa è la settimana del benessere psicologico. Abbiamo anche molte sedute gratuite dedicate in primis alle donne. Ricordando anche quello che può essere il rapporto privilegiato con gli specialisti che sono qui. Esattamente, qui c'è una equip di psicologi molto importante. Siamo posizionati nel sostegno all'adolescenza, alla genitorialità e a brevissimo ci sarà un convegno anche dedicato al tema delle perconnessioni. Cioè i ragazzi passano molto tempo connessi, diremmo anche 24 ore al giorno, e lavoreremo insieme ai genitori per arginare insomma un po' questa dipendenza dalla rete. Non resta quindi che seguire anche le attività che FamilyMed mette in campo? Assolutamente sì. Invito tutti quanti a seguire pedissequamente tutte le iniziative che FamilyMed mette in campo per la famiglia. FamilyMed mette in campo per la famiglia.